Io comunque, Giova, devo chiedere scusa a Scaiola, perché io in questi anni ho fatto battute, scherzi, allusioni, e invece lui era un genio. È un genio, ha aperto un mondo, ha inventato una cosa nuova, come Steve Jobs agli inizi, che si è inventato la Apple in un garage. Che importa se a Scaiola il garage magari glielo regalavano? Comunque, da ieri, a mia insaputa, è legale. Io mi immagino già i prossimi annunci immobiliari, AAA, vendesi ampio trilocale, ingresso, angolo cottura, doppi servizi, di cui uno già pagato dai gnoti, 130 metri quadrati, calpestabili, di cui 30 regalabili. Oggi Scaiola ha detto che rivuole la sua credibilità politica, ma quando mai ce n'ha avuta una? Forse era mia insaputa, può essere.